Sassari, rifiuti speciali e pericolosi accumulati, oli e idrocarburi versati in una strada comunale con auto abbandonate sul ciglio, inoltre acqua rubata dalla condotta idrica. Sono pesanti le accuse mosse contro un'azienda sassarese che ieri si è vista mettere sotto sequestro preventivo d'urgenza l'autofficina e l'autolavaggio su disposizione del pubblico ministero. Gli agenti della polizia locale erano intervenuti nell'area dopo due segnalazioni della compagnia baracellare che aveva individuato degli sversamenti di rifiuti liquidi e delle auto abbandonate in una strada comunale alla periferia della città. Dopo un primo sopra luogo preliminare e prevalutare la situazione, il comando è ritornato nella zona con i tecnici dell'ARPAS. Dall'esame dell'aria è emersa una situazione critica, un'autofficina, un'autolavaggio che non avevano un sistema di raccolta e scarico dei rifiuti liquidi. Inoltre erano presenti molti rifiuti speciali e pericolosi abbandonati in un ampio perimetro. I titolari si erano anche collegati furtivamente alla condotta idrica e per questo sono accusati di furto d'acqua. Il pubblico ministero, sulla base di quanto raccolto dalla polizia locale, ha disposto quindi il sequestro preventivo d'urgenza. I tecnici dell'ARPAS hanno eseguito diversi campionamenti sul terreno e gli esami sono ancora in corso mentre è già stato avviato il procedimento penale.